Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana e oggi parliamo dell'ultima lettura che ho fatto, e cioè The Gilded Cage, secondo della trilogia di The Prison Healer. Prima di partire vorrei dirvi che ho fatto su Instagram la mia, diciamo, reading list. Il prossimo libro non è ancora uscito, ed è Our Violent Hands, il secondo release of Violent Lights, che uscirà, se non sbaglio, settimana prossima, comunque a metà novembre. Quindi non ho letture attualmente da fare, non so se riuscirò a trovare nel frattempo qualcosa da leggere per questa settimana. Quindi penso di no, perché la mia scaletta era finire questo, andare col secondo di The Violent Lights e poi dedicarmi all'Impero d'Oro, il terzo della trilogia di Daevabad. Quindi, insomma, volevo soltanto aggiornarvi sulla mia scaletta di lettura. Detto ciò, bando alle chance, parliamo di questo meraviglioso libro, meravigliosa seconda parte. Dunque, cosa succede qui? Dopo il rocambolesco finale di The Prison Killer, che non svelo, perché da come ho capito, forse l'anno prossimo uscirà in italiano, quindi mi sto zitta, però diciamo che il finale cardiopalma del primo, ripartiamo col secondo proprio, se non sbaglio, due o tre settimane dopo questa bomba. Troviamo Kiva che è sopravvissuta alle tre prove e si trova con Jaren e Tip nella capitale. Qui Kiva dovrà affrontare varie questioni, il suo riabituarsi ad un mondo normale, diciamo, in quanto lei è stata per dieci anni rinchiusa dentro il carcere di Zalindov. Quindi non è abituata a parlare normalmente con delle persone, non è abituata a fidarsi di nessuno, non è abituata a provare e sentire delle emozioni. Quindi la troveremo un po' impacciata in questo. Allo stesso modo, Kiva si troverà coinvolta nella grande scelta tra la famiglia e l'amore, anche se lei lo nega fino alla fine, l'amore per Jaren e la lealtà, l'amore per la propria famiglia. In questo scenario si verranno a intrecciare varie questioni, diciamo, di carattere politico. Ecco, da una parte abbiamo i ribelli, da una parte abbiamo i regni di Mirraven, e non ricordo l'altro come si chiami, che vogliono attaccare Evalon. E dall'altro lato abbiamo i sentimenti di Kiva divisi in queste due fazioni, tra la lealtà alla propria famiglia e la lealtà al proprio cuore. Si ritroverà Kiva a dover andare contro ciò che lei in realtà vuole, perché lo reprime, e si ritroverà a tradire la fiducia di più e più persone. Ed è questa forse la forza di questo libro. Il finale che ci apre all'ultima parte, la terza parte, Linette Noni è una stratega in quanto a finali cardiopalma. Sarà bello vedere come si svolgerà il tutto, perché... Insomma, io sono rimasta molto a limite in questo. Quindi diciamo che questa seconda parte analizza la guerra tra dei ribelli, i regni di Mirraven, che vogliono invadere il regno appunto di Jaren. E dall'altro abbiamo i sentimenti di Kiva divisi tra lealtà alla famiglia e amore per Jaren. Dunque, andiamo al succo di questo capolavoro. Ciò che caratterizza questo romanzo è l'angoscia e la divisione. Tutti, insomma, vi chiederete, ma può essere bello un libro che parla di angoscia e di visione? Eh, insomma, in questo caso sì, perché sono temi che vengono sviscerati dall'autrice attraverso Kiva. Kiva fa una battaglia contro se stessa in mane, una battaglia che nessun essere umano potrebbe portare avanti per così tanto tempo. L'angoscia che percepiamo dall'inizio a fine libro è analizzata in tutti i suoi aspetti. Kiva fa una crescita in ogni caso, nonostante viva questa doppia, diciamo, personalità, doppia vita. Non saprei come definirla. Conosciamo due parti della sua famiglia, i suoi fratelli, Zulika e Thor, e ci renderemo conto che non è una famiglia che ci si aspetterebbe, una famiglia di canoni standard, ecco così. La sorella è un tipo un po' particolare, è molto invidiosa e gelosa di Kiva. Il fratello, invece, è molto protettivo nei suoi confronti, cerca di proteggerla più che può e quando la rivede il suo cuore letteralmente si scioglie, cosa che non succede con la sorella Zulika. Per quanto riguarda i due fratelli, durante il libro non abbiamo sentore di nulla, ma verso lo scioglimento finale uno dei due prenderà il sopravvento e rivelerà la propria identità. E lì, insomma, sarà la parte dello scioglimento finale che porterà allo scoppio della seconda bomba. Per quanto riguarda il doppio gioco che fa Kiva, ci rendiamo conto di quanto sia difficile per una persona portare avanti due personalità, non essere se stessa e tentare di far combaciare le varie bugie dette a destra e a sinistra per far sì che la storia sia... vale in un senso unico per entrambe. Vivere di bugie è difficile e molto complicato, soprattutto se si vive in un mondo protetto dove tutti sono alto servizio e vogliono soltanto il tuo bene. Le due realtà dove si scontrerà Kiva saranno quelli appunto della sua famiglia, molto schiva, i rimanenti membri della sua famiglia. Schiva, non gentile, non compassionevole e priva quasi di amore se non per il fratello. Dall'altro lato abbiamo Jaren e il suo scudo d'oro, Tip e tutti i fratelli che vivono a palazzo che trattano Kiva con amore, con rispetto e con benevolenza. Quindi si troverà al centro di queste caratteristiche totalmente diverse. Per quanto riguarda la descrizione della capitale e quant'altro, molto bella. Ci viene riscritto anche un ospedale, l'ospedale di Silverton, un posto molto bello dove a Kiva viene dato il benvenuto. C'è una guaritrice che non vede l'ora di vederla a Silverton e le dà tutto il tempo per decidere se domani volesse intraprendere la carriera all'interno di questo ospedale. E' proprio dentro Silverton che comincia la storia di questo secondo libro. Molto interessante la struttura del palazzo reale, divisa in alla est e alla ovest legate da dei tunnel ed è interessante anche come, e spero lo noterete per chi vorrà leggerlo la regina e il re siano totalmente divisi dall'ala dove vivono i loro figli. E' interessante anche come i tunnel sotterrani aprano delle nuove porte, delle nuove zone dove si riunisce anche il consiglio reale e dove ci sono anche delle segrete, vie di fuga e eccetera eccetera. Scopriremo anche le variabilità dei principi reali, dei vari elementi, come li maneggiano. è stato veramente bello e l'antagonista per eccellenza è il principe Caldon, Caldon Caldon non mi ricordo. E' un tipetto molto simpatico, spavaldo, chiama Kiva Sunshine of Sweet Cheeks ed è veramente uno dei miei antagonisti preferiti in assoluto. Mi sono divertita tanto nel leggere le parti dove lui è presente. La cosa che mi ha turbata un po' di questo personaggio, diciamo che Nino, non proprio nel finale ma quasi ad apertura del finale, dei capitoli finali, lui scopre diciamo questa duologia di Kiva e la perdona. Cioè io sono rimasta un po' così perché ho detto, cioè ma io li avrei strappati i capelli tipo, però lui la perdona, questa forse è una parte che non mi ha tanto convinto, però leggendo i capitoli finali, soprattutto il finale, probabilmente Lynette, la nostra amata Lynette, analizzerà questa cosa nel terzo libro, quindi sarà tutto da vedere. Per quanto riguarda Jaren, io amo questo principe e ogni volta mi chiedo, ma perché non esistono queste persone nella realtà? Io me lo chiedo sempre. E' frustrante leggere di questi uomini, ma che in realtà non esistono. Tip, qui avrà un ruolo più marginale. Una cosa che ci tenevo a dirvi, di solito, quando ci sono delle trilogie, spesso sento Bookstagram, Booktuber, tutti i books del mondo, dire, eh, di solito questo secondo libro è un brodo allungato, non c'è scritto niente di che, sarebbe meglio farne duologie. Dunque, faccio un paragone, anche se non c'è a secca niente. Con La città di Ottone, il secondo libro in realtà è veramente un brodo allungato, in quanto si prende come scusa questo ospedale, ve l'ho detto centomila volte, lo so, ma in realtà, che cosa accade? Bastava leggere soltanto le parti dove c'era Dara e ci sarebbe capito tutto fino alla fine. E ho la sentore che col terzo libro si venga a riprendere alla fine questo ospedale con la frase e vi sono tutti felici e contenti. Per me quello è un brodo allungato. In questo caso, in realtà, non è un brodo allungato, perché si va a costruire tassello per tassello il dubbio e il malessere, l'angoscia di Chiva che si ritrova tra due fronti, tra la famiglia e l'amore. E verso Gianni nella sua famiglia conosce queste persone in maniera totalmente diversa da ciò che le è stato raccontato. Quindi questo secondo libro non è un allungabrodo e se sentite qualcuno dirlo, evidentemente non ha capito nulla del messaggio rinchiuso in questo secondo libro. Questo secondo libro fa di tutto per farci capire il reale disagio di Chiva che si trova in mezzo a due che sono i valori più importanti, la famiglia e l'amore verso un'altra persona. Tutti questi step sono fatti, sì, per farci conoscere tutti i membri della famiglia reale, farli vedere anche a Chiva, far vedere che in realtà non è come le è stato raccontato, diciamo di non tutti, come le è stato raccontato. E lei per prima si deve ricredere. Quindi il suo peso da 90 aumenta quando tradisce, tra virgolette, la famiglia reale, Giare in particolare, quando rivela delle informazioni sensibili ai ribelli, in questo caso ai suoi fratelli. Il motivo di questo secondo libro sta proprio qui. Non è un brodo allungato, è un crescendo che ci porta all'apertura dell'ovviamente terzo libro. E non sarebbe potuta essere una duologia, perché se non ci fosse stato questo secondo libro a spartire l'inizio e la fine, si sarebbero venute a perdere molte cose, molte caratteristiche del personaggio e non ci sarebbe stata una comprensione totale del lettore di tutto quello poi che prova Chiva, che prova Jaren poi, che provano tutti. Ho ordinato la mia copia speciale dalla Fairyloot, che dovrebbe arrivare, se non sbaglio, fine novembre, non ricordo, però non potevo aspettare di leggerlo a fine novembre, quindi ho scelto di leggerlo in ebook. Ovviamente l'edizione speciale della Fairyloot non sarà così, sarà in maniera diversa, non vedo l'ora di riceverlo. Stessa cosa per Our Violence End, sarà l'edizione speciale, ma io lo comprerò a metà novembre in ebook anche, perché devo leggerlo assolutamente e su questo non ci piove. Niente ragazzi, per oggi è tutto, spero di aver sviscerato in maniera dettagliata, questo video è lunghissimo, lo so, questa è la mia lettura, ma mi è piaciuto particolarmente e mi ha toccato. Se vi aspettate un libro con un triangolo amoroso, questo non lo è. Niente ragazzi, ci vediamo quando ci sarà il terzo libro, io non vedo l'ora, oh mio Dio. E niente, fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha letto in inglese, se vi ho suscitato interesse, spero di sì, perché è veramente bello e è diverso. Ve lo dissi anche al primo libro, è proprio diverso, la mia attenzione è diversa, è tutto diverso ed è veramente originale. Quindi spero arrivi in Italia presto, spero possiate godere anche voi di questi personaggi e della compagnia della piccola povera Kiva. Un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!